ciao a tutti i ragazzi e ragazze bentornati sul canale di joe prima di proseguire con il video e vedere le carte di chi è stato eliminato vi invito se vi va di mettere like al video e iscrivetevi al canale per avere altri aggiornamenti iniziamo si è appena conclusa la registrazione della terza puntata del serale di amici 23 3 le manche che come al solito hanno segnato il destino dei nostri beniamini e per la prima volta dall'inizio del serale ci sarà solo un'eliminazione ad aprire le danze nella prima manche sono i pettimondo verso sicuro quest'ultimi hanno perso e a rischio eliminazione vanno mira che si salva subito sofia e lucia sofia salva mentre lucia va al ballottaggio finale seconda manche di nuovo i pettimondo che affrontano i zerbicele e stavolta ai pettimondo va male a rischio eliminazione valigio lì e gaia quest'ultima si salva e dal ballottaggio finale valigio lì terza manche zerbicele affrontano i cucalo quest'ultimi hanno perso e a rischio eliminazione vanno mira e sofia sofia va al ballottaggio finale il ballottaggio finale vede lì sofia e lucia la prima si salva quindi l'eliminato e tra sofia e lucia quindi carte nulla da fare ragazzi e ragazze per ora le talpe non hanno fatto il nome del possibile eliminato non ci resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprire chi sarà eliminato e voi chi pensate venga eliminato scrivete nei commenti e ditemi la vostra per il momento ho concluso questo piccolo video news un grosso abbraccio alla prossima news